Il leader nazionale CESA riorganizza l'Udc calabrese dando nuovamente fiducia a Franco Talarico, riconfermato segretario regionale. Talarico sarà affiancato da due vice segretari che sono Giuseppe Graziano, copogruppo dell'Udc in consiglio regionale, che avrà anche il ruolo di vicario e Paolo Arrilotta. Nessuna nomina per Nicola Paris, eletto a Palazzo Campanella proprio con l'Udc, ma da tempo entrato in conflitto con i vertici del partito. Nominati inoltre i nuovi commissari provinciali di Catanzaro, Giovanni Merante, Cosenza, Giovanni Simone Bitonti e Reggio Calabria Roberto Vizzari, ai quali si uniranno nei prossimi giorni i responsabili di Crotone e Vibo Valencia. Non era più procrastinabile una decisa fase di riorganizzazione del partito, dice CESA, capace di rimettere al centro dell'impegno politico i valori della militanza, dell'appartenenza e del radicamento territoriale. Il tutto nella prospettiva di ridere ancora più efficaci e forti le battaglie dell'Udc, tanto nelle sedi istituzionali quanto nelle periferie della regione. Grazie. Grazie.